che cazzo vuoi? questa la devo mettere come intratto in giù questa la stacco dall'ultimo pezzo e la metto all'inizio che cazzo stiamo venendo a fare? io voglio io voglio salve salve a tutti ragazzoni dal vostro dark house 92 come state darchini e darchine tutto bene? siamo oggi qui in compagnia del nostro carissimo poke coffee che sembra tipo sapete quello la delle serie di dottorina poke coffee venne cago poke coffee lo vuoi il poke coffee eh? no non mi piace io sono più sul bacio perugino affidate quanto sei sprecevole siamo oggi su h1z1 king of the kill si sta frizzando un po' non lo so ragazzi io ho messo tutto medio perchè non lo so frizzando un pochettino e niente andiamo a pugni però questa cosa comunque ragazzuoli vi volevo dire che se vi piacciono queste tipologie di serie tipo h1z1 stiamo seguitando che non li posso streamare perchè ho una linea di merda quindi è una ventimega appare che mi diventa la fibra raga tranquilli h1z1 eh questo qui quant'è gente? quant'è gente? quant'è gente? oh oh quant'è gente? oh 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 come faccio sono ancora in caricamento quando avrò la fibra ragazzuoli streameremo h1z1 minecraft e tanti altri stiamo iniziando comunque scendiamo nelle casette sempre lì si si io mi sono ancora in caricamento come sei ancora in caricamento? ti giuro ok sono spawnato adesso ok vedi ci sono le due casette quella la tipo gialletta e le due una centrale e l'altra a sinistra io vado in quella centrale ok vado con la gialla se muoio uccido allora e se muoio lancio grida di respirazione vabbè per intanto faccio così vabbè per intanto faccio così vabbè per intanto faccio così vabbè per intanto faccio lì minca è freeze minca ok con il loot andiamo bene andiamo bene diciamo stiamo utilizzando gioco malissimo e questo che l'ha rotto? ok qui dentro raga mi sa che già hanno lottato difatti no sento passi c'è qualcuno raga oh 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 sparano 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 un altro madonna quanti metri ti sto trovando raga oh scotch buono 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 uuu un altro R perfetto se vuoi un'arma scarpette le converse sono ricco ma intanto buttiamo queste cose qui e facciamo facciamo rimettiamo questa cosa perché là ci sarà il pompa sempre se trovo il pompa guardate dov'è il pompa guardate raga andiamola a prendere perfetto è proprio qui qui sono andato in giro con la molotov guarda quello con la molly babbia qui già ho lottato io eh ah invece io l'unica arma che ho la molotov oh pazzo pazzo c'è la famo io non c'ho la famo sii ce la famo raga ok lo lutto ce la famo e come oh sei tu no non sono io occhio eh e ora rispetto prezzato un gioco e ora rispetto e muore ragazzuoli e muore bello lì io ammazzo e lui lutta postato penso ti imberdo oh a me mi si frizza il gioco vedi però adesso non frizza più che bello ora si ora si non avevo finito di luttare aspetta lutto io per te tranquillo no no tranquillo ci penso io uuuh leggins minca sono una bella patata adesso buona 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 dimmi che ci sono colpi della r mmm si vabbè le bende me le piglio io ci sono ci sono nel mio inventario oh mi chiamo qua ci vuole la la allita life tararara is the bug double double dream no 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 oh mio dio che è? accetta accettiamoli guarda qua aspetta che mi spottano da 500 metri con questi pantaloni qua Poi con questa felpa guarda Un top La cappa Obba Vigliati l'altro va Guarda che sono buono e ti lascio le cose Uh a cappa non mi piace non mi interessa Non siamo in safe però siamo Diciamo vicini quindi possiamo andare tranquilli Giusto? Come cazzo hai fatto ad andare Raga Mi si è frizzato il gioco Sembrava tipo Harry Potter con la macchina che sta lì Ti giuro mi si è frizzato il gioco malissimo Ti lascio l'altro cosa del code pompa lì Un attimo perché mi sa che mi si è perduto Madonna quante modifiche mi dovrai far fare a sto video bastardo Perché? Tu non puoi capire quante modifiche farò io Tu ti ammazzerei dal ridere ti giuro Metterò la scena Di Harry Potter con la macchina Io voglio provare un intorno a dare la palestra Ma che minchia Raga sono sicuro che il video durerà come minimo una ventina di minuti Però ci sta dai Ci sta Quanto accetta? Vuoi un accetta? No non mi interessa l'accetta Li accettiamo Io accetto tutto Su Facebook o su Instagram? Come faccio a accettare su Instagram? Massimo foco A parte che il mio profilo Instagram è troppo interessante Infatti di selfie al mare, al ristorante C'è tutto Tutto molto interessante Eh sapevo Io ci sono legati Tu profilo Instagram è molto interessante Donne balene giganti in mezzo alle strade Qua farò tipo la mia faccia grigia Dai muoviti Vieni qua Prenditi il coso militare Dai Ma ce l'ho già Vabbè Vabbè Lo shreddi Yes Shreddiamo Shreddiamo Stiamo facendo il ceritone Tondo C'è Ma che capire Ecco Giusto Ci stiamo tutti Oh L'ho preso per qualcosa Io salgo su e mi fotto Uno Uh Munizioni per l'erro Basted Cambiamo De federmi Dovevo andare a sinistra quindi dobbiamo andare a ovest Non c'è la macchina Non mi vengo arrivo Non lo so Non c'è la macchina 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 Attento che puoi migliori il copyright Sei a posto? Possiamo andiamo? Si Uuuh Uh qua non hanno luttato ancora E' troppo bella l'accetto Le case Io trovo munizioni del pompa Medikit Ma se ce l'andiamo a ovest che dici? Va bene Che il gas si sta spargendo Ma che cosa stai facendo? Ti accetto Basta Guarda che ti spara in testa col bazzù Col bazzù Dai andiamo a partire gli scherzi Ma questa qua andrà a borsi Andiamo Ok non c'è un cacchio Madonna ma io non c'è un cacchio di munizioni della R Come si è permesso di fare il mio lavoro Ma ovest è a destra lì Yes Ma si stanno rimasti in 54 52 No in tutto sono 50 Dobbiamo togliere le due pure Allora Allora Io faccio schifo Io ti faccio fare le chicate Mi copio ragazzoni Mi copio Cazzo ci sono le zanzarone quelle giganti nella stanza mia Ma che che Mi morte una zanzarone di quella Io muoio tipo qua in live Proprio mentre facciamo il video Ma c'è un video? Bravo Oh che bella quella skin di collardo Cosa? Dammi la skin del Tom Fammi la skin Grazie Grazie Ma Mi esce la pettola Sono Vediamo le mie poppe Vediamo le poppe sue Aspetta cos'è molto più interessante Sto video lo chiamerò tette al vento Le accettiamo Questo video sarà chiamato H1Z1 tette al vento clickbait Clickbait Scherzo epico finito male No Video epico finito male E sai perché è finito male? Perché siamo morti tra un po' Vabbè Se qualcuno arriva qua con la macchina ci fa fuori Sicuro 100% Oh siamo rimasti in 41 Dobbiamo vincere questo Dobbiamo farlo per youtube Vabbè Se entriamo in tendenza Se vinciamo entriamo in tendenza Te lo dico Ma io voglio essere pocket coffee Io invece sono Bacio per ucchini E cambia di nome con bacio per ucchini Ma anche no Ma anche no Anche perché non lo posso fare Volendo non lo posso fare Andiamo a lottare qui Tanto siamo in safe Ok Perché non si può lanciare la cetta? Tipo Barbari Sparano Sparano Dottosso a destra Tranquillo Quello con l'Aish Guardatelo Regà Ma è stupenda C'è non più È brutto Oh non toccare i colpi dell'aria Perché sono i miei Non toccare Non c'è un cazzo Oh mio dio Guarda Ma guarda Guarda Fallo pure qua Nella tenda Vai Vai Oh che cazzo sei Coglio Allora C'ho le converse No c'è Ma che stupido Aspetta Ok andiamo là sotto La vedi quella casa là sotto? Andiamo a lottare lì Come no? Ah si la vedo Ora la vedo Macchina Macchina di fronte a noi Macchina La vedi? Polizia Stanno andando a lottare lì Basta Vabbè Giovanna Ci stanno andando a lottare per noi Andiamo Eh 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 Atmeno ci riunisce tutti in un punto Sei dietro di me Non Non devi andare Ti prego Tranquillo Cappaccia e nemesis No ti giuro ma io farò sto video una bellezza Le modifiche che gli apporto sono strafiche Io lo condivido su Facebook Aspetta Mi raccomando ragazzi condividete il video su Facebook Cioè su Facebook Condividete il video con tutti i vostri amici Per farglielo vedere E fargli vedere che tra un po' saremo morti Ragazzi oggi vi insegnerò come si raccoglie il legno su Minecraft Prendete l'accetta Vi avvicinate a un bell'alberino Cominciate a dargli dentro Così E non va Andiamo Ammazza quelli Come ci hanno sentito da 50 metri Però Vuol dire Sei pronto? No Tu? Io si L'importante è che tu sei pronto Io lutto Ricalla Ma sono tornati via Non credo Neanche entrati Eccoli Entro dentro Un ucciso Uno ucciso Eh dietro Fuori Dietro la macchina Dietro la macchina Dietro la macchina Stai scappando Vabbè uno è morto almeno Dov'è il tizio? È morto? Qua C'aveva il coso Mia Uno spin bella Mia Certo Era stupendo se c'aveva tutte le chiavi lui e lui non poteva partire Perdevo male Oh granata Mi fai lottare? Sì sì vai Chavi Bende Non piglio tutto io raga No Questa 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 Ma si Siamo messi Bene Io c'ho una pettorina Aspetta un attimo Sceglie da qualcosa qui Piglio Sti tukashki Non posso Mi sa che posso farmi Sì? Ne posso fare due? Tu ce l'hai? No uno ce l'ha Sì l'ho rubato a questo qua Perfetto Quindi ne faccio uno sola E boh Andiamo Andiamo Usciamo Siamo rimasti in 22 ragazzuoli Quindi Bambino Oh la madonna Siamo rimasti in 21 Allora ci butto una granata qua Minchia ce l'hai tu le granate? No non ce l'ho io Ma ce l'ho 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 Tipo gli busciamo Vabbè sti cazzo Pompà in mano No mi ha ucciso Dio Il dice di vita L'avevo lasciato io Quindi sei morto? Sì sono morto No Eh vabbè Ma che conti Mannescia Eeeh Mi ha sparato Oh quanti colpi dell'errorego? Beh io ce l'ho tipo 200 Oh Vai via macchina Macchina Vai via che vieni 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 Dai che siamo morti tutti vai Vieni Avvicinati Verrà? Per un dese Vediamo Oh Quanto è sto pastardo che butta le granate? Ma l'ha capito che sono qui o no? Per me è stupido Guardalo, guardalo, guardalo Sì, ragazzi Ok, mi ha visto E io mi devo curare No, non ci foda Sono morto come un coglione Perché ho sbagliato Cosa hai fatto? Dovevo cliccare la W e ho cliccato la Il tasto A per andare a sinistra Dovevo andare a destra Con la W era avanti Eh Niente ragazzuoli Kill 3, quindicesimi E direi che ci può stare Dai Il primo round è andato così Eh sì, per stavolta è andato così In prossima volta giocheremo molto più seri Fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video E se vi piace ovviamente Arriviamo a 200 like A 200 like vi porterò Un secondo episodio di ovviamente H1Z1 E vedremo con chi portarlo Se con sempre Pocket Coffee Oppure vedremo con altri amici Mi raccomando ragazzi Vi lascerò giù in descrizione Il link di un mio carissimo amico Che si chiama Waspema E anche il link Di una mia moderatrice Che si chiama Su YouTube Si chiama Luna E vi lascerò il link in descrizione Ovviamente andate a guardare i loro canali E se volete vi iscrivete Grazie a tutti per la visione E ci vediamo ad un prossimo video Di una prossima Speriamo che farò qualche live Molto probabile di Crash Reale Però quando arriverà la fibra Cambierà tutto Grazie a tutti Grazie a Pocket Coffee E Ciao Ciao Mi 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 Ti stupido Però Gli voglio bene Come un fratello Alla prossima Ciao